Saluti a tutti, siamo nel pieno della Caccia al Tesoro Noir. Benvenuti, biglietti dopo, andiamo sulla fiducia. Vincerà il migliore? Io gli ho perso le chiavi e devo fare un sacco di pulizie. L'eleganza non è un dettaglio da poco. No, era alle 12 in punto, ma non so per quale motivo, che stupido, sono arrivato in ritardo. Devo aiutarla a ritrovare la sua borsetta. Non so, non fai niente contento. Mal di schiena, tremendo. Siamo più di 800 persone, 800 detective, che quest'oggi hanno praticamente occupato tutta Locarno. Grazie.